Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Ho uno splendido rapporto col mio ex marito. Non abbiamo segreti di nessun tipo, ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri, ha detto in un'intervista. E per ora ha scelto di rimanere negli stats. Elisabetta Canalis, 45 anni, ha passato il capodanno a volta in un abito rosso fuoco, a Los Angeles, dove vive ormai da tempo. La sua vita sentimentale è cambiata più di un anno fa, dopo la separazione dal chirurgo americano Brian Perry. Per la prima volta la sugar sarda ha parlato, a Angrazia, del divorzio proprio da Perry usando parole forti, non mi aspettavo finisse così. Ma ora sono felice, ha detto Canalis, 45 anni, in procinto di uscire sul grande schermo in un film con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. Elisabetta, molto contesa dalle maison di moda, spiega di non essere ancora legalmente divorziata ma lei è ufficialmente legata al campione mondiale di kickboxing Giorgian Cimpeanu. Ho uno splendido rapporto col mio ex marito. Non abbiamo segreti di nessun tipo, ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri, ha detto, precisando di aver scelto di restare a vivere negli Stati Uniti anche per non stravolgere le abitudini della figlia. Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo. Racconta anche di vivere con la figlia a dieci minuti di auto dalla casa in cui ha vissuto da sposata. Certe sere è strano pensare che Skyler si trovi a due miglia di distanza e che a cena non è con me. Ma poi col tempo mi sto abituando e mi sono organizzata. A Los Angeles ho buoni amici per fortuna. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.